in questo momento nell'ambiente fiorentina ci si divide tra quelli che capiscono di calcio e quelli che criticano vincenzo italiano sì perché la critica e la piega che ha preso una parte di tifoseria contro italiano è una roba che adesso basta adesso va denunciata basta prima lo leggevi andavi avanti leggevi andavi avanti facevi un sorriso magari ogni tanto rispondevi ma andavi avanti adesso basta adesso basta perché se ascolti quelle persone lì che attenzione non criticano la fiorentina non criticano la società non criticano i giocatori ce l'hanno con vincenzo italiano non so ma ce l'hanno con vincenzo italiano se senti queste persone qua ti chiedi allora la fiorentina sarà quindicesima in classifica fiorentina sarà vuole dalla coppa italia la fiorentina magari non si è qualificata per la conference se ascolti loro invece no la fiorentina prima nel giro di conference quindi merito lo scorso anno la fiorentina è a un punto dal quarto posto e quindi in pienissima lotta champions la fiorentina è andata avanti è passato il turno in coppa italia quindi la fiorentina sta facendo non solo quello che deve fare ma lottando per la champions sta facendo qualcosa in più campionato eppure oggi è quindici dicembre e il quindici di settembre piuttosto che il quindici di luglio o il quindici di agosto ci avessero detto guarda che il quindici di dicembre la fiorentina è davanti in conference qualificata come prima da passato il turno in coppa italia ed è ad un punto dal quarto posto in pienissima lotta per la champions la gente avrebbe firmato col sangue la gente avrebbe firmato col sangue oggi la fiorentina in questa posizione classifica qui e c'è una critica nei confronti dall'allenatore che è imbarazzante e imbarazzante l'ultima sono le critiche che ha preso italiano per aver schierato nico gonzalez che si è fatto male in questo momento in cui questo video lo sto registrando dovrebbe essere uno stiramento fuori per si si stima in un mese da quel che pare poi magari è molto di meno speriamo la colpa d'italiano sarebbe quella di aver schierato nico gonzalez se non stava bene non dovevi rischiarlo allora premesso che tutte queste persone che parlano non hanno una laurea in medicina non hanno ben che minimo la ben che minima idea della situazione fisica di nico gonzalez non sanno nulla nella vita fanno altro non conoscono il calciatore non conoscono gli allenamenti non conoscono lo stato non hanno nulla e non sanno che nel 2023 un giocatore viene monitorato soprattutto in una struttura all'avanguardia come quella del viola park viene monitorato con dei mezzi scientifici molto molto importanti e precisi quindi se un giocatore scende in campo scende perché può scendere in campo tra l'altro nico aveva giocato mezz'ora contro la roma stava benissimo naturalmente non aveva i 90 minuti perché non aveva nico i 90 minuti contro la roma perché gli otto giorni precedenti a roma fiorentina nico non si era mai allenato e questo ce l'ha detto italiano prima della partita quindi il programma di nico era perfetto mezz'ora contro la roma altri 50 60 minuti oggi titolare tutta la partita contro il verona domenica italiano ieri in conferenza stampa l'aveva detto adesso nico è recuperato è al top non era stato benissimo adesso è al top sfortuna vuole che nico gioca e si fa male stiramento cosa c'entra vincenzo italiano nulla non c'entra nulla anche perché nico si fa male dopo 15 minuti quindi non si può nemmeno dire sai l'hai tenuto troppo oppure è sforzato pensate se fosse entrato magari all'ottantesimo sarebbe cambiato tanto quindi ora se analizzate a mente fredda tutto questo diceva beh come mai uno se la prende con vincenzo italiano ebbene sì la gente sta insultando vincenzo italiano la gente per questo motivo sta insultando vincenzo italiano ma sono le stesse persone che se magari italiano non l'avesse messo nico e oggi la fiorentina faceva una partita sotto tono magari perdeva avrebbero criticato italiano perché non aveva messo nico gonzalez sono sempre le stesse persone che ogni settimana ogni partita si svegliano e hanno un solo obiettivo non ti fare la fiorentina non ne frega un cazzo di fare la fiorentina questa gente qua devono andare contro vincenzo italiano domenica uscita la formazione formazione sbagliata non capisci un cazzo italiano incompetente la formazione poi si è rivelata perfetta perché qualcuno voleva beltrano non avrebbe mai beccato in mezzo a quei tre bestioni all'olimpico e molti volevano milenkovic mentre quarta e ranieri hanno fatto una super partita all'olimpico di roma quindi formazione perfetta però questi poi non hanno detto bravo italiano io avevo detto la formazione era tutta sbagliata invece è stata giusta quarta ha fatto bene fatto gol ranieri uno dei migliori in campo e zola si è fatto rispettare si è mangiato un gol si è fatto rispettare nella lotta dialogato bene quindi bravo no la prossima partita col verona qualsiasi scelta italiano farà ve lo dico io pigliare a critiche non sono un indovino non sono un indovino ma fidatevi che contro il verona appena uscirà la formazione queste persone qui che hanno criticato italiano e che criticano italiano ogni partita contro il verona ve lo metto per iscritto criticheranno italiano quando uscirà la distinta della formazione oppure a fine partita speriamo che si sia vinto perché se non si sarà vinto ve lo dico oggi adesso colpa di vincenzo italiano pure se è vinto 2 a 0 diranno si potrà vincere 3 a 0 oppure potevi fare questo è sempre così c'è oggi c'è da parte di una parte di tifoseria della fiorentina c'è la voglia di rompere le scatole a vincenzo italiano sempre in continuazione costantemente in ogni partita appena ne hanno mezza occasione ma perché 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 non è un capopopolo come murigno perché non dice frasi paraculo perché non va a piazzale michelangelo dice firenze meravigliosa ti amo alla follia perché non si compra i tifosi con frasi paraculo perché non dice molto spesso quello che i tifosi si vogliono sentire dire italiano per esempio non si è mai lamentato contro un arbitro pure tanti tifosi amano il il come fa murigno è sempre colpa dell'arbitro è sempre amano i capopopolo italiano parla di calcio italiano non dice quello che che il tifoso medio si vuole sentir dire italiano non non è un leccaculo questo italiano lo sta pagando contro questi tifosi qua zola sapete perché oggi il rendimento di beltrano in zola è pressoché lo stesso tra alti e bassi dell'uno e dell'altro sapete chi viene massacrato di più zola sapete perché perché l'ha chiesto vincenzo italiano anche qua narrazione meravigliosa che la gente pensa che italiano ha scelto un zola gli hanno detto guarda c'è scamacca c'è lukaku e c'è in zola e italiano diceva no datemi in zola no non è andata proprio proprio così la scelta era magari teneriovic prendere zola perché l'investimento grosso era beltrano fatto dalla società italiano non lo conosceva nemmeno quindi è tutta una scusa per andare contro italiano adesso basta perché così si fa il male della fiorentina anche perché diciamolo a chi non ancora se italiano dovesse andar via italiano va ad una squadra meglio della fiorentina perché lo vuole in napoli il milano interessato la roma ci ha sempre guardato italiano l'ha aggiunto gli piace tantissimo eccetera 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 la fiorentina prende uno peggio l'italiano perché ragazzi spalletti alla fiorentina non viene perché de zerbi alla fiorentina non viene perché simone inzaghi alla fiorentina non viene perché pep guardi ora la fiorentina non viene perché clop la fiorentina non viene quindi non pensate che se vincite questa crociata contro italiano il prossimo marzo della fiorentina sia meglio ma è peggio e questa squadra qui per tanti interpreti ricordiamo che fiorentina bologna sette titolari di quella squadra sette titolari di quella squadra erano gli stessi titolari che giocavano per la salvezza comprandegli e jacchini sono gli stessi e i giocatori sono quasi gli stessi sapete chi mancava di quei sette undicesimi che dice chi erano i quattro che c'erano allora e non ci sono oggi blaovic castrovilli pezzella liberi blaovic castrovilli pezzella e liberi quindi cosa vuol dire questo allenatore con questo materiale sta facendo cioè che la fiorentina è lotta per il quarto posto e i propri attaccanti hanno un gol un gol in serie a rispettivamente un miracolo che la fiorentina gioca con un grande esterno di valore che il nico e il resto sono purtroppo mediocri e la fiorentina sta lì è un miracolo la fiorentina ha tre centrali di ruolo uno due anni fa detta di tutti dove andare in serie b oggi è una certezza e si chiama luca ranieri per tantissime partite la fiorentina ha giocato senza terzino destro e la fiorentina oggi sta lottando in campionato contro napoli roma lazio atalanta non è distantissimo il milan c'è la fiorentina si presenta all'olimpico di roma con il tridente qua me nzo laicone gioca contro di bala lucacu e agli stessi punti di chi schiera quara osimen e la gente la gente si permette di criticare la gente si permette di prendere di mila vincenzo italiano italiano può sbagliare certo che può sbagliare vincenzo italiano certo che deve crescere certo che deve migliorare questa allenatore certo ci mancherebbe altro palletti ha 30 anni di attività in serie a italiano è il quarto anno il terzo la fiorentina in zaghi sono dieci anni che allena in serie a sarri sono 25 anni che fa questo mestiere eccetera 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 la fiorentina non si può permettere la fiorentina è stata bravissima a scegliere italiano brava fortunata secondo qualcuno tutto tutto è concesso ci sta nella dinamica ma la fiorentina sta tenendo vincenzo italiano ed è vincenzo italiano la soluzione a tanti problemi che ci sono a tanti problemati che bisogna affrontare è italiano la soluzione non il problema e prendendo di mira italiano con l'obiettivo di destabilizzarlo sminuirlo non si fa il bene della fiorentina ad oggi chi critica vincenzo italiano non fa il bene della fiorentina che un conto è criticare una scelta salia premesso barac piuttosto che infantino conto è questo un conto è la critica cronica ci sono sempre i soliti noti che fanno le critiche croniche alla fiorentina non voglio far nomi ma domani vi posso scrivere nomi e cognomi di quelli che criticheranno italiano domani lunedì martedì prossimo sono sempre gli stessi poi dicono vabbè ma io non posso criticare che avrei messo tizio caio certo che può criticare ma è l'atteggiamento il problema è l'atteggiamento della critica cronica ad un che non so perché lo state prendendo di mira non fate il bene della fiorentina la fiorentina identità a gioco la fiorentina sono tre anni che va oltre va al massimo al massimo sempre come con gioco identità idee vince contro le bx e la gioca contro di tutte poi si può perdere si può vincere certo poi ci sono anche i singoli il tridente con cui la fiorentina si è presentata allo stadio olimpico di roma in uno scontro diretto ecco a me i conenzola contro giocavano di bala lucaco alla fine della partita sapete chi doveva vincere la partita la fiorentina sapete chi ha detto perso due punti la fiorentina sapete chi sono i tifosi che hanno risultato per aver pareggiato tifosi della roma a un allenatore così gli va detto grazie gli va detto guarda io ti proteggo di cosa hai bisogno di sostegno te lo do perché grazie a te che stiamo facendo un certo tipo di percorso con tutti gli errori che si devono e si possono fare quindi è vergognoso quello che accade e sono sempre i soliti noti che stanno facendo una battaglia non contro italiano perché chi oggi fa una battaglia contro italiano fa semplicemente una battaglia contro la fiorentina fa una battaglia contro la fiorentina queste persone se ne devono rendere conto ripetiamo non è la critica il problema è l'atteggiamento anti italiano e non va bene si arriva un altro allenatore e non arriverà uno migliore italiano perché spalletti alla fiorentina non viene why emery alla fiorentina non viene club alla fiorentina non viene quindi a italiano che sai che la strada è quella giusta è quella di un grande allenatore che puoi migliorare con lui crescere con lui anche attraverso i suoi errori sui sbagli ci mancherebbe altro ma è questa la strada non criticarlo demotivarlo sminuirlo insultarlo perché non si fa il bene della fiorentina non 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 Grazie a tutti.